L'introduzione di nove nuovi soci e un socio onorario molto noto, il professor Giulio Tremonti. Così la confraternita del Piavedop, soggetto che promuove la conoscenza del noto formaggio, ha voluto festeggiare il suo decennale nella sede degli alpini di Tricchiana. Avevamo pianificato questo incontro ancora nel 2020, anno in cui cadeva il decennale dalla fondazione della confraternita, coincidente con il conferimento a parte della comunità europea della DOP al formaggio Piave. Abbiamo atteso pazientemente perché a causa Covid ogni volta dovevamo rimandare e quest'oggi ci siamo riusciti. Ci siamo riusciti avendo anche come ospite e come socio onorario il professor Giulio Tremonti, il che ci onora molto, ma molto, molto. Sono molto contento di essere qua, è un posto molto bello. La confraternita è una cosa vera e cosa potevo dire? Che mi sento qui come un topo nel formaggio. Intendo formaggio nel senso vero e non il resto. Anche altre confraternite erano invitate alla festa. C'è il supremo e nobelissimo ordine dell'amarone del reciotto, della soppressa di Bassano, della pasta fresca, dei bigoi dell'Imena, dei radici fasioi e dei vini coliberici. Quella del raboso è molto importante perché oggi degustiamo fra l'altro un vino prodotto da loro, le cui barbatelle provengono dall'Armenia, che chi se ne intende di enologia si dice dove sia nata la vita. Per cui mettiamo insieme tutti questi bei sapori.